Mi è capitata una cosa curiosa settimane fa Ho trovato il diario di una bambina Io quel diario l'ho ottenuto perché quella vita mi piaceva Quanto segue è ispirata a una storia vera La storia vera è ispirata a una storia falsa La storia falsa non è molto ispirata Oh come ti ingani se pensi che l'animo non hanno a finire Bisogna morire, bisogna morire